Assessore Campanelli torna il Carnevale a San Benedetto dopo tre anni, quali gli appuntamenti in programma? Sì, allora, gli appuntamenti sono per tutti, diciamo, il Carnevale San Benedettese proprio vuole essere il Carnevale all'insegna di un divertimento sano e senza eccessi soprattutto e riprendere delle tradizioni dei carri allegorici in Carta Pesta e vivremo due momenti di sfilate domenica 19 e martedì grasso 21 febbraio, sfilati al centro della città dalle 15 in poi. Questi sono i momenti centrali e durante la sfilata dei carri saranno presenti numerosissimi gruppi mascherati che hanno aderito, hanno desiderato essere protagonisti di questi momenti e che abbiamo, insomma, coinvolto, fatto un lavoro di coinvolgimento con i comitati di quartiere, con le scuole, un bel lavoro e quindi, ecco, hanno recepito con entusiasmo questo invito di partecipazione. E poi ci sono anche due momenti, diciamo, pensati proprio a misura di bambino, di bambine, di bimbi e sarà la festa di oggi pomeriggio al Palazzetto dello Sport, quindi una festa al chiuso e poi anche una festa all'aperto a Piazza Cristo Re sabato pomeriggio sempre dalle 15 in poi.